Tornano a salire i nuovi casi covid in Umbria, 114 nell'ultimo giorno, con 5 guariti e nessun morto. E il quadro sul sito internet della regione di attualmente positivi sono 1.221, 109 in più rispetto a lunedì. Sono stati analizzati 2.674 tamponi e 3.908 test antigenici, con un tasso di positività dell'1,73% sul totale. Era 1,4 martedì della scorsa settimana. Segnato un ricoverato in più negli ospedali, ora 14, due dei quali dato stabile in terapia intensiva.